ehi charlie dove stai andando stai andando a farti fare un makeover all'officina di verniciatura di tom fammi indovinare vuoi diventare spider-man è stato il gancio sulla gru che ti ha tradito sembra già che tu abbia una tela di ragno ma forse è più sicuro se lo tiri mentre vai da tom hey tom sembra che qui sia tutto pronto per trasformare charlie in spider-man c'è un sacco di vernice rossa hai ragione charlie è un veicolo grande e quindi avrà bisogno di molta vernice per coprirlo tutto assomigli un po a frank il camion dei pompieri forse c'è un altro dettaglio che occorre aggiungere tom naturalmente ragnatele aspetta avrete bisogno anche di un pennello sottile no ah いました o bella memoria tom spiderman indossa anche una mascherina per gli occhi chiudi gli occhi charlie charlie tieni ancora gli occhi chiusi per un minutino mentre la vernice si asciuga che cosa sta combinando tom questo adesivo a forma di ragno è geniale sembra che ci sia ancora una cosa da fare quanti di quei copricerchi ti servono tom sei contiamoli uno due tre quattro cinque e sei wow assomigli proprio a spiderman charlie ben fatto tom ah ecco perché charlie aveva la gru e il gancio estesi non solo voleva sembrare spiderman ma anche muoversi come spiderman arrivederci amici ehi frank buon natale tom sta per trasformarti in qualcosa di speciale babbo natale wow ehi tom non vedo l'ora di vederti trasformare frank in babbo natale eccolo che arriva eccolo che arriva vieni dentro con cosa cominciamo tom dobbiamo togliere la scala di frank ok e dopo che si fa intaglieremo delle assi di legno per costruire i lati di una slitta grande idea fantastico dobbiamo farne uno anche per l'altro lato che cosa c'è in quella bottiglia colla da mettere sulle tavole per attaccarle ah capisco perfetto dobbiamo fare lo stesso lavoro anche per l'altro lato e ora cosa viene vernice spray rossa buona idea wow frank assomiglia a una vera e propria slitta abbiamo bisogno di dipingere qualcos'altro vernice d'oro ah benissimo cos'altro ci serve per far assomigliare frank a babbo natale una barba fatta di cotone non ridere frank resta fermo o il cotone non si attaccherà ecco qua frank tutto fatto è tutto tom un cappello da babbo natale e dei pattini idea brillante wow hai proprio l'aspetto di babbo natale buon natale a tutti ciao tom ci vediamo l'anno prossimo ciao 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 ciao